Aggiungerei che tutto ciò che abbiamo fatto, il Paese ha fatto un grande passo in avanti in tutti questi anni e l'abbiamo sotto gli occhi di tutti. Ecco, adesso la preoccupazione, il dispiacere che avrei è se questo patrimonio che abbiamo messo insieme e soprattutto guardando a quei 600, oltre 600 che abbiamo lasciato per le strade che sono morti con la guerra di liberazione, sarebbe veramente un danno, non per noi che ormai siamo vecchi e ce ne andiamo, ma sarebbe un danno per il Paese, un danno per i giovani a non avere un Paese con una prospettiva come veniva vista da noi dalla guerra di liberazione. Noi abbiamo bisogno di lasciare memoria proprio perché non si spenga, che si cammini in avanti, ecco perché di questo il Paese ha bisogno, dopo tanti anni di sacrifici il pensare ancora che ci sono delle forze eversive che si abbracciano alla capitale, che c'è la Mussolini e Fini, che c'è Berlusconi e Bossi, che si abbracciano questi reazionari, insomma vogliamo dire ai giovani che è un pericolo che bisogna che lo combattiamo insieme, insomma ecco, e noi perché il tanto che possiamo fare, che non sarà mai abbastanza, siamo qui insomma ecco.